La segna stampa locale di martedì 23 luglio 2013 che apriamo con la gazzetta del Mezzogiorno. In prima pagina, motobarca come Cenerentola si ferma prima di mezzanotte. Il servizio collega via mare ai quartieri Casale e Paradiso con il centro del capoluogo. I cittadini protestano perché in estate nel pieno della Movida il servizio viene interrotto troppo presto. Altri beni sottoposti a sequestro ai cannone. Per un valore di 714.000 euro, secondo l'accusa, Oscar sarebbe il prestanome del padre Ciro, condannato in passato per riciclaggio di denaro del contrabbando di sigarette. Dati personali per l'autority non si pubblicano all'albo pretorio. Diritti sui rilievi dell'Adoc, l'autorità per la protezione dei dati personali, giudica sbagliato pubblicare dati personali dei cittadini, nei confronti dei quali i vigili urbani hanno elevato verbali per le violazioni al codice della strada. Francavilla diventa un'app turistica per gli iPad. Questa sera alla presentazione del Castello Imperiali sarà presentato il progetto Francavilla Fontana, tesoro della Puglia. I dipendenti della Santa Teresa oggi in assemblea. Cresce la tensione dopo i previsti tagli. C'è da attendersi un'assemblea infuocata. I dipendenti della Santa Teresa non accettano i contenuti del piano, che prevede un drastico taglio nell'erogazione dei servizi. Troppo chiasso di notte, proteste dei residenti. Torre Santa Sabina, invito al comune per aumentare i controlli. Fioccano le proteste nella località balneare un tempo oasi di pace e di relax e luogo accogliente. Ora bisogna fare conti con la musica assordante. Ripulito il gasolio ai camion di impresa di calcestruzzi. Nel weekend in via Ferraris ancora non si conosce di preciso né l'entità del danno, né la dinamica esatta di quanto è accaduto, né il momento esatto in cui i ladri sono entrati per compiere il misfatto. Con la rapina non c'entro, Bistonte respinge le accuse. Indagato per un colpo da 70.000 euro, Bistonte difeso dall'avvocato Luca Leuci, ieri mattina è comparso dinanzi al giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia. L'uomo ha negato a tutto campo. Passiamo a quotidiano. In prima pagina, la regione striglia Lecce-Taranto. Una segue a Brindisi. Si accende il confronto sulla candidatura di Lecce-Taranto a Capitale Europea della Cultura 2019 e la regione spiega perché non ha ancora sposato nessuna delle due cause. Abbiamo chiesto più volte ai sindaci di trovare un'intesa per presentare una sola candidatura. Divisi si perde. Intanto partono anche a Brindisi i laboratori urbani creativi. Multe, sorridi, sei online. Sul sito del comune i nomi di automobilisti indisciplinati. Ricorso all'autority, il garante blocca la procedura e valuta eventuali sanzioni perché il comune ha assunto una condotta non conforme. Baratro nei bilanci. Multiservizi salva. Energeco appesa alla Corte dei Conti. Multiservizi salva dalla Spending Review, mentre Energeco attende la Corte dei Conti. Questa la decisione del Consiglio Comunale di ieri. Servizi prorogati fino a fine anno in attesa del nuovo piano industriale. Lite all'esame di maturità, il provveditorato ora indaga. Un brutto ricordo per uno studente del liceo Epifano Ferdinando di Mesagni che ha deciso di inoltrare un esposto all'ufficio scolastico provinciale. A causa di una lite tra commissari sarebbero stati sospesi gli esami stessi, ripresi poi il giorno successivo. Un docente durante il litigio avrebbe accusato un malore e sarebbe persino andato via. Aperta subito un'inchiesta. Cannone, ultimi sigilli e i resti di un impero. Un sequestro da 714.000 euro. Quel che restava del tesoretto cannone finisce sotto sigillo. L'ennesimo provvedimento è stato eseguito ieri mattina dagli uomini della Guardia di Finanza. Nel medino una villetta, quattro autovetture, un rimorchio, una moto e un gommone. E l'ultimo colpo sul re delle bionde, Ciro Cannone. Botte da Orbi in piazza. Arrestato un rumeno. Aveva aggredito per motivi banali un 63enne in una piazza centrale di Brindisi. Per questo i carabinieri hanno arrestato un giovane rumeno residente in città, 26 anni. A suo carico le accuse di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, violenza privata e percosse. Denunciato un coetaneo. L'uomo è stato medicato al perrino. No manifesti, no concerto. Salta Battiato. Polemica. Un flop dell'organizzazione ha costretto Franco Battiato a rinunciare alla data dell'Apriti Sesamo Tour, prevista per il 1 agosto al Forum Eventi di San Pancrazio. L'agenzia che doveva occuparsi della promozione aveva detto di aver ritirato i manifesti e di averli anche fatti effiggere. Ma così non è stato. I biglietti saranno rimborsati. La proposta Torneo dei Rioni, anche i politici paghino i biglietti. Siamo in bolletta, allora paghino tutti il biglietto per il palio. E' questa l'idea lanciata dal consigliere comunale del Movimento Oriae, Tommaso Carone. in una lettera aperta al sindaco della cittadina federiciana e agli organi di informazione. Mancano infatti pochi giorni alla manifestazione più importante dell'estate uritana, prevista per il 10 e l'11 agosto 2013. Grazie. 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 Grazie.